E allora finalmente è il momento del gioco e ora cerchiamo... Che silenzio... Ah, fermi! Si rifà allora, avete capito? E allora finalmente è arrivato il momento del gioco, ecco perché così mi sembra ci si possa già iniziare a rilassare. Prima c'è stata questa conferenza stampa e presentazione, io ho bisogno di due cose perché ce le siamo dimenticati. Allora, innanzitutto una per me molto importante, se no è come viaggiare di notte. Allora, è stato preparato un adesivo che verrà distribuito in tutti i bar che hanno accettato di non avere al loro interno né slot machine, né VLT e né tutto il resto. Per fare caffè non servono slot machine, bar premiato da slot mob perché libero da slot machine. Questo voluto da Valdarno non slot, libera le banche del Valdarno Fiorentino e la banca del Valdarno. Lo trovo molto carino perché, insomma, almeno non ci sono le macchinette, c'è più spazio per noi per venire a prendere un caffè o comunque fare quattro chiacchiere, un aperitivo o quant'altro. C'è un'altra cosa molto importante, una lettera. Questa lettera è indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale, Roma 00187. Caro Presidente Sergio Mattarella, eccetera, eccetera. Che cos'è questa lettera? È una lettera che tutti voi, come singoli, come scuole, come cittadini, quindi tutti noi, possiamo firmare proprio per chiedere, di rispondere all'appello che è contenuto in questa lettera, cioè di far togliere la gestione dell'azzardo, del gioco d'azzardo, alle società commerciali, che non possano far altro che incentivarlo per trarne profitto. Questo lo trovate, questa lettera. Aspetta, perché questi mi servono per leggere. Dove lo trovano? Sulla pagina Facebook di Valdarno No Slot. Potete scaricarlo, firmarlo e mandarlo al nostro Presidente. Ma veniamo... Sono tutti già attesi. Allora, chi di voi è mai stato in televisione? Mai stato? Te ci sei già stato. Quindi, come ti chiami? Zeno. Zeno. Qual è la regola principale quando siamo in televisione? Guardare in camera. Bravo. Ce n'è un'altra molto importante. Non mettersi le dita nel naso, perché ovviamente, se no, si vede, si vede, e quindi non è carino. Cerchiamo però di conoscerli, prima di iniziare con il gioco vero e proprio, basta il nome, vuoi dare nome e cognome scuola, quello che vuoi. Serena. Serena, con un filo di voce. E la scuola? Masaccio. Masaccio, perché se no sembra un tu ci voglia andare. Ora scusate le un tu ci, però... Tu invece sei? Viola. Masaccio. Masaccio. Io invece sono Alina e sono di Masaccio. Chi sei? Alina. Alina, ed è del Masaccio. Zeno, immagino... Del Masaccio. Del Masaccio. Margarita, della scuola Masaccio. Marga. Margarita. Margarita. Come il cocktail. No, scusate, scusate. Anni? Quasi quattordici. Quasi quattordici. E se hai parlato di gioco d'azzardo, questi sanno già il cocktail, ne dovremo fare anche un'altra, mi sa. Giuditta, della scuola Masaccio. Giuditta. Io sono Alice, della scuola Masaccio. Però me lo dici là, proprio guardando le telecamere. Io sono Alice, della scuola Masaccio. Anche tu? Io sono Matilde, sempre della Masaccio. Sempre della Masaccio. Lei l'ha impallata proprio in pieno, guarda la telecamera. Io invece mi chiamo Lediona, sono sempre delle Masaccio. Come ti chiami? Lediona. Lediona? Sì. Lediona, che bello è il nome, sai che è la prima volta che lo sento. Allora, ragazzi, avete davanti a voi due pulsantiere. Io vi leggerò delle domande a risposta multipla. Il primo che schiaccia, che si prenota, esclude l'altro. Rosso per questa compagine che chiameremo la squadra, la squadra, come volete chiamarvi? La squadra viola e voi invece siete la squadra verde, appunto. La squadra viola ha il colore rosso, la squadra verde ha il colore verde. Infatti pensavo che vi chiamassi la squadra rossa. Comunque va bene, va bene, voi siete i viola. Quindi io vi leggo la domanda e le possibili risposte. Dopodiché vi prenotate, avete 15 secondi di tempo per consultarvi con i vostri colleghi e poi date la risposta. Chi si prenota per primo e risponde in maniera corretta, prende due punti. Se invece sbaglia, prende zero punti. La squadra che non si è prenotata, non ce l'ha fatta in tempo, può rispondere. Se risponde esattamente, prende un punto. Se sbagliano, prendono zero punti. Lì è al tavolo che vedete. Ho, meglio di tutti i presentatori a livello nazionale, non un notaio, ma ho sia il notaio che la notara. E questo va reso veramente un altro applauso perché più di così non si poteva avere. Signore e signori qui presenti nella saletta del Bar Semplici, ma soprattutto telespettatori a voi a casa, questa è la puntata zero, perché speriamo diventi una serie, la puntata zero di Per un Pugno di Euro. Vi siete rilassati? Siamo pronti? C'è Zeno, proprio, non vediamo l'ora di partire. E allora si parte. Domanda 1. Il gioco d'azzardo patologico o ludopatia è A. Un disturbo del comportamento e degli impulsi B. Un vizio C. Non è una dipendenza Notaio, quale squadra, perché io da qui non la vedo. Rosso? No. Viola? La risposta giusta secondo noi è la A. La risposta giusta secondo voi è la A, cioè il gioco d'azzardo patologico o ludopatia è un disturbo del comportamento e degli impulsi ed è giusta. Quindi i primi due punti vanno alla squadra Viola. Domanda 2. La dipendenza da gioco d'azzardo è una dipendenza da sostanze, risposta A, B, un comportamento, C, da un'ideologia. Velocissimi, immagino sia sempre la squadra Viola. Sono velocissimi. Comportamento. Quindi la dipendenza da gioco d'azzardo è una dipendenza da un comportamento e anche questa è corretta. Altri due punti per la squadra Viola. Domanda 3. A quali criteri deve rispondere il gioco per essere considerato d'azzardo? A. È solo illegale. B. È un gioco di abilità e furbizia. C. I giocatori puntano del denaro. Il denaro una volta puntato non può essere ritirato ed il risultato dipende dal caso. Ancora la squadra Viola. Dopo si fa una prova su questo pulsante perché la vedo sempre premere, però partono sempre loro. Vi siete anche già consultati? Sì. Secondo noi è la risposta C. La risposta C. Quindi i criteri per essere considerato d'azzardo. I giocatori puntano del denaro. Il denaro una volta puntato non può essere ritirato. Il risultato dipende dal caso ed è corretta anche questa. Altri due punti per la squadra Viola. Mi provi il pulsante? Proviamo il pulsante. Funziona. Quindi è tutto regolare. Posso andare avanti? Domanda numero 4. Come viene definito il giocatore che sviluppa una dipendenza da gioco d'azzardo? A. Giocatore sociale. B. Giocatore problematico. C. Giocatore patologico. Verde. La risposta C. La risposta C, ovvero il giocatore d'azzardo è un giocatore patologico. È esatto. I primi due punti per la squadra B. Il giocatore invece problematico sono io. Nel senso che a qualsiasi giochino, ma anche quelli su telefonini, Candy Crash, il più stupido che esista, io ho un c'è verso. Un vo' avanti nemmeno dopo il terzo quadro. Quindi i miei problemi sono molto più gravi dei, insomma, no, ora proprio di questi no, ma sono comunque gravi. Domanda numero 5. Dunque, nel territorio, stiamo parlando del nostro territorio, è del Valdarno, nel territorio esiste un servizio pubblico di cura per chi sviluppa una dipendenza da gioco? A. Sì, presso il distretto socio-sanitario di San Giovanni Valdarno. B. No. C. Sì, presso il distretto socio-sanitario di Montevarchi. Viola. Secondo noi la risposta è da C. Secondo voi la risposta è presso il distretto socio-sanitario di Montevarchi ed è vero. Quindi risposta corretta è proprio il punto di cura dove chiunque può andare, anche un familiare. Perché è giusto che magari chi soffre, chi è colpito da questa patologia, non ha il coraggio e allora va aiutato. E quindi magari se anche un familiare va prima e inizia a parlarci e trova il familiare stesso il modo per portare poi il congiunto al certe, forse è anche più semplice. Domanda numero 6. Sapete a quanto ammonta la spesa pro capite annua per ogni italiano maggiorenne in Italia per il gioco d'azzardo? A. Circa 1.000 euro B. Circa 5.000 euro C. Circa 1.700 euro Sempre la viola È verde? Allora è la scuola verde La risposta è la C. La risposta è la C. Circa 1.700 euro. A me questa cifra ha messo paura. La risposta è esatta. Ci immaginiamo tutti noi, cioè questo è stato fatto, una media per ogni italiano maggiorenne, non sui casi patologici. Quindi è come se ognuno di noi si spendesse 1.700 euro ogni anno per giocare, si buttassero via 1.700 euro ogni anno. Ecco io dico che il problema è molto grave considerando soprattutto una cifra alta come questa perché Zeno te con 1.700 euro cosa ci faresti? A. Io ci comprerò il pianoforte Beh, beh, glielo facciamo, cioè ci compra il pianoforte Te invece cosa ci faresti? Eh, io non lo so sinceramente Anche perché ritrovarsi di punto in bianco uno che ti chiede che ci fa con 1.700 euro? Boh, cioè se mi basterebbe io andrei a farmi una vacanza E ti bastano, ti bastano, credimi Ci sono vacanze meravigliose low cost che 1.700 euro ti diverti e soprattutto si ritorna con qualcosa Non solo con il ricordo ma anche con un po' di cultura in più perché viaggiare fa veramente bene E niente, a questo momento vi chiedo un attimo di pausa per la pubblicità